Ooooooooh! Tutti in muovere da quanto mi spacco! Tutti in muovere da quanto mi spacco! Tutti in muovere da quanto mi spacco! Vergogna! Che vergogna! Che bastardi! Ma chi difendete? Ma chi difendete? Ecco il sistema! Ecco il sistema che non sta dalla parte dei lavoratori! Vai via! Ecco come si difendono i soldi e i miliardi di Italtrans sulle spalle dei lavoratori! Eccoli qua! Basta! 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 Ecco come si difendono i soldi! Ecco come si difendono i soldi! Non la gente! Si difendono questi! I soldi si difendono qui! Difendiamo i soldi di Italtrans e di sti bastardi che fanno i miliardi sulle spalle loro che fidano 1.100 euro! Questo stiamo facendo! Stiamo difendendo questi bastardi! Altri contro dei lavoratori! Questo stiamo facendo! Ma che cazzo! Siamo diventati! No! Ti vuoi fare da qua! Se no le prendi domani quando ti vedo eh! No! Non ti vuoi! 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 Grazie.